Salve a tutti amici, ben ritrovati in questo nuovo video, ma soprattutto bentornati su Pausa Caffè. Partiamo subito con la news, ma prima se vi fa piacere potrete lasciare un bel like qui sotto per aiutare semplicemente il canale e potrete commentare tutte le notizie qui sotto, proprio nella sezione commenti. Il nuovo grande fratello di Alfonso Signorini è iniziato lo scorso 11 settembre. Il pubblico sta quindi imparando a conoscere i concorrenti, che quest'anno sono un mix tra famosi e non famosi e questa è solo una delle tante novità dell'edizione 2023, che non è proprio partita col piede giusto, dal punto di vista degli ascolti. Anche l'ultima puntata andata in onda non ha brillato. Nonostante una buona partenza, con picchi del 23% di share per la prima puntata trasmessa, le due successive hanno visto il trionfo della concorrenza. Nel dettaglio, la seconda diretta del GF di venerdì 15 settembre ha perso contro i Team Music Awards di Rai 1. Il lunedì 18 settembre Alfonso Signorini ha totalizzato il 18% di share, con il risultato che l'attuale programma di punta di Mediaset è stato sconfitto addirittura dalle repliche del commissario Montalbano. E anche sui social, l'hashtag fatica ad arrivare in tendenza. C'è sicuramente bisogno di tempo per tirare giù il bilancio ma intanto nelle ultime ore è uscita la notizia di una scelta importante dell'azienda sul reality di Canale 5. Il sito di Davide Maggio rivela che da lunedì prossimo ci sarà una variazione sulla rete Ammiraglia Mediaset e a farne le spese sarà proprio il GF. Al contrario i fan della Sop la promessa posso esultare perché, sempre a detta del portale, inizialmente si pensava che la serie venisse sospesa e invece no. La Sop resterà nel palinsesto e anticiperà Mirta Merlino e il suo Pomeriggio 5. Domenica inoltre andrà in onda la prima puntata di Amici e il Daytime Quotidiano su Canale 5 inizierà alle 16.10. Questo permetterà quindi a Pomeriggio 5 di mantenere il suo orario abituale alle 16.55. E il grande fratello. Qui il grosso cambiamento. Stando alle ultime indiscrezioni, secondo reality di Alfonso Signorini avrà solo due brevi spazi, il primo appuntamento alle 11 con Forum, portando alla riduzione di qualche minuto di mattino 5. Il secondo sarà invece tra il TG5 e Beautiful, quindi intorno alle 13.30. Insomma, a quanto pare la striscia quotidiana dedicata al GF eslitterà dalla fascia pomeridiana e questa non è proprio un buon segno. Al contrario, contribuisce a mettere in risalto lo scarso successo che sta avendo le reality. Ma, ripetiamo, probabilmente è solo questione di tempo. Politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo, vi saluto, mi raccomando, vi aspetto al prossimo video. Ciao, un saluto da Max.